Noi parliamo di tanti portieri, giovani portieri italiani, magari di 10-12 anni, che magari vanno ogni giorno ad allenarsi e si devono porre degli obiettivi. Cos'è che consiglieresti proprio a questi ragazzi per iniziare a fare questo lavoro, questo sport, nel ruolo del portiere che poi è anche quello più particolare, no? Sì, sicuramente. La passione è indispensabile, imprescindibile. Poi bisogna anche cercare di capire che tipo di reazioni puoi avere a secondo delle sollecitazioni che ti dai o che ti danno gli altri, no? Quando sei ragazzino, l'unica cosa che posso dire, oltre a quella di giocare per divertirsi e cercare sempre di migliorarsi, è di non arrendersi alla fatica e al sacrificio e alla sofferenza. Perché chi si arrende subito, secondo me, vale un pochino meno di chi si arrende dopo. Adesso prendo la parola io. Vai. Anche perché qua mi stanno rubando un po' le domande, eh, mi sa? Sì. Allora, io ti volevo chiedere, quali sono stati i tre momenti più emozionanti della tua lunghissima e fantastica carriera? Il più bello di tutti è l'esodio in Serie A, sicuramente. Avevo 17 anni, era una partita a scudetto, ci giocavamo il primo posto con il Milan. E perché lì ho coronato veramente il mio sogno. Il mio sogno era quello di giocare in Serie A. Anche se fosse andata male, avrei sempre voluto dire che almeno una partita in Serie A l'avevo disputata. Poi, come emozioni, due con la Juve, che sono le due semifinali vinte contro il Real Madrid. Due sensazioni di una gioia, di un orgoglio uniche. E poi il Mondiale, perché non può essere, altrimenti perché è stato un qualcosa di titanico.